No, alla violenza sulle donne. Uniti contro la violenza sulle donne, sportivi per la scuola. Questo è il titolo dell'incontro odierno promosso dalla Regione, Commissione Pari Opportunità Donna, a cui hanno preso parte fra gli altri l'assessore regionale alla famiglia Alessia Rosolen e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Il messaggio è chiaro, univoco, incondizionato. Basta violenza, basta violenza sulle donne. Ci siano regole chiare, ma soprattutto certezza della pena. È incontrovertibile il fatto che oltre che la formazione e la comunicazione in questo caso testimonial sportivi, verso cui i ragazzi e i giovani si identificano per interiorizzare un messaggio di rispetto che è quello contro la violenza, qualsiasi violenza, ma specialmente quella contro le donne, deve andare di pari passo anche con un sistema di deterrenza importante. Molte volte anche il sistema, i giudizi, i tribunali che in qualche modo giudicano chi compie violenza, in questo paese stranamente fa passare forse molte volte la donna come quella che magari ha contribuito oppure con l'atteggiamento, ha favorito. Cioè c'è in qualche modo un approccio che rischia di non essere invece fermo come deve essere quello della deterrenza contro la violenza, perché noi abbiamo imparato a metterci le cinture, a non fiumare in luogo pubblico che c'era una legge che lo vietava e che faceva delle sanzioni chiare e questo è di dato patrimonio, chi per me magari non l'aveva fatto da giovane ha avuto delle difficoltà, ma i nuovi ragazzi che sono nati con queste norme e con queste sanzioni lo fanno spontaneamente. La stessa cosa dal punto di vista della deterrenza va fatta anche con le pene certe che devono colpire chi si macchia di questi orrendi reati. Il messaggio è stato appoggiato e veicolato anche grazie alle posizioni di numerosi sportivi regionali o che si allenano e giocano in Friuli, Venezia e Giulia, atleti che meglio possono raggiungere una platea più giovane che deve sin da subito prendere coscienza di tematiche così importanti e delicate. Sono messaggi importanti per la costruzione di un sistema di educazione civica che passa attraverso il sistema scolastico e che servono a costruire le nuove generazioni, non filtrati da interventi politici ma diretti da parte di chi parla direttamente con i giovani. Grazie. Grazie. Grazie.